Buonasera, sono Stefania, faccio parte dell'agenzia Brancatelli, lavoriamo in Liguria e abbiamo diverse aziende nel settore della termoidraulica. Questa sera Fabricazioni per il quarto anno consecutivo ci ha invitato qua e noi siamo molto contenti perché abbiamo l'opportunità di presentare un'azienda che è l'idea standard e diverse novità di prodotto. Brevemente vi faccio vedere tre prodotti nuovi sui quali stiamo puntando molto. Uno è questo tipo di scarico che ci permette di andare a lavorare con un sanitario tra di filo parete dove attraverso delle curve possiamo andare a sostituire un sanitario di vecchia tipologia senza spaccare muri, senza rifare gli impianti, basta solamente utilizzare una di queste tre curve e utilizzare un sanitario così chiamato universale filo parete. All'interno del catalogo troviamo cabine doccia e piatti doccia e nel momento che riusciamo a fare l'abbinamento il box doccia prende 8 anni ulteriori di garanzia, quindi abbiamo 10 anni di garanzia alla cabina doccia e le parti di ricambio vengono inviate gratuitamente. Gemma 2 di ceramica dolomite e primo sanitario economico filo parete. Poi troviamo la serie Colmet che per noi è la serie più versatile e sicuramente la serie più venduta. Abbiamo una gamma veramente completa perché troviamo il sanitario a terra, il sanitario filo parete, il sanitario sospeso, il sanitario sospeso con i fissaggi nascosti e come novità abbiamo la Colmet Freedom, quindi più alta è di 5 cm per le persone di altezza importante oppure più larga parlando di persone di peso un pochino più importante. Su tutte le nostre serie troviamo in opzione sedili a chiusura rallentata e fissaggi nascosti che non si vedono più gli attacchi. Altra novità di Ideal Standard è il piatto doccia strada, è un piatto doccia alto 3,5 cm interamente in ceramica con un trattamento antiscivolo. Questo piatto doccia va a fiancare la gamma degli Ultrafet che troviamo da questa parte, che abbiamo più di 40 dimensioni e in 40 misure. Questo è un piatto doccia in acrilico ed è alto 4 cm. Ultima novità appena uscita è la serie Tonic, che prende il nome già da una serie che avevamo a catalogo, in questo caso si chiama Tonic 2 e la particolarità di questa serie è che ha una tecnologia che abbiamo appena brevettato come Ideal Standard, siamo i primi e gli unici sul mercato a avere questo tipo di tecnologia. Questa tecnologia prevede una brida interna interamente nascosta e quindi un sistema di pulizia molto più facile.